VACOPED La ditta tedesca Oped ha creato un sistema di tutore unico al mondo che permette di ridurre il tempo di convalescenza del paziente anche fino a 6 settimane. Il segreto di questo prodotto brevettato sono delle microsfere che si chiamano vacosferi. Migliaia di questi vacosferi formano la base di questo prodotto che si chiamano vacosferi. Il tutore VACOPED utilizza queste microsfere all'interno di un'imbottitura a vuoto per adattarsi perfettamente alla fisionomia dell'arto interessato. In questo modo è sempre perfettamente conformato all'arto anche dopo una o due settimane. Basta togliere l'aria tramite una piccola pompetta che viene fornita con il tutore e la struttura si adatta di nuovo al piede. Si forma una superficie personalizzata e resistente capace di distribuire uniformemente la pressione. Il tutore può essere modellato sul singolo arto ogni volta che si fa la medicazione o si procede all'igiene personale. Con il metodo tradizionale del gesso, dopo pochi giorni, non si garantisce più una buona stabilizzazione della frattura perché con il riassorbimento dell'ematoma e dell'edema e con la riduzione della massa muscolare, il gesso diviene più largo e meno stabile. In commercio esistono già dei tutori, ma non garantiscono la stabilità che invece assicura il vacuopad. Quando la prima fase di stabilizzazione dell'arto è terminata, lo stesso vacuopad può essere utilizzato come un'ortesi funzionale tramite un sistema articolato del tutore range of motion che permette una mobilizzazione dell'articolazione precoce. In questo modo si evita la rigidità articolare e si riducono i rischi di trombosi o di tromboflebiti causate dalla mancanza della pompa muscolare. È disponibile anche un sensore acustico come accessorio chiamato sistema ClickDisk che avverte il paziente se questo supera un limite di carico precoce stabilito dal medico. Il recupero della funzionalità dell'articolazione diventa molto più veloce. Per persone sportive, il tutore permette di fare la stimolazione dei muscoli, gli esercizi con la bicicletta, pilates, stretching, per mantenere la mobilità della caviglia evitando delle atrofie. Vacuopad può essere usato dai medici che preferiscono una mobilizzazione precoce ma anche da chi preferisce un periodo di immobilizzazione più lunga e sicura. La struttura esterna tipo scarpone da sci permette di avere la stabilità di un gesso ma allo stesso tempo dà la possibilità di accedere al sito interessato per un controllo della ferita, una medicazione o per l'igiene personale in qualsiasi momento. L'applicazione è molto semplice. Si aprono le cinghie tipo velcro e si appoggia il piede sul cuscino. Si chiude il cuscino inserendo la parte anteriore dello scarpone. Quindi si allaccia il velcro secondo la sequenza indicata sul tutore. Alla fine si toglie l'aria con la pompetta fornita. Ci si accorge di avere raggiunto il vuoto poiché la pompa non può più essere schiacciata e basta chiudere la valvola con il tappo. Esiste anche la possibilità di adattare il polpaccio se necessario come illustrato nel film. Rottura del tendine di Achille La combinazione del rialzo della suola con il piede in posizione equina rendono questo tutore un ottimo presidio terapeutico per il trattamento conservativo o chirurgico delle lesioni a carico del tendine d'Achille o le lesioni muscolari. Il tendine d'Achille rimane sempre protetto dal tutore in combinazione con il sistema a vuoto. I trattamenti delle rotture muscolari e del tendine di Achille sono possibili senza l'utilizzo dell'apparecchio gessato. Si cambia solamente l'angolazione del tutore. Le strutture muscolo-tendinee sono in scarico funzionale rimanendo nella posizione di accorciamento. È possibile iniziare gradualmente la riduzione della posizione equina per diminuire drasticamente il rischio di recidive le date dallo stress muscolo-tendineo nel momento in cui si porta l'articolazione tibiotarsica alla posizione di 90 gradi. Per ogni tipo di patologia, frattura, esiste un protocollo con le indicazioni per il trattamento con il tutore Bacoped. Secondo le indicazioni del medico e del progresso della convalescenza del paziente, il tutore permette anche di regolare il grado di mobilità permesso al paziente range of motion per accelerare il tempo di guarigione. La lunghezza della suola del tutore può essere regolata come dimostrato nel video. Il rivestimento interno del tutore è lavabile a 60 gradi in lavatrice. Per cambiare il rivestimento interno si toglie il cuscino interno con le microsfere e si usa il rivestimento di scorta che viene già fornito insieme con il tutore. Il tutore può essere dotato di un sistema di sicurezza per impedire l'apertura del dispositivo da parte del paziente non autorizzato dal medico. Un ulteriore beneficio di questo leggero tutore Bacoped è il mantenimento della pulizia dell'arto evitando quel fastidioso senso di prurito. Il medico ha la possibilità della disinfezione e medicazione della ferita chirurgica post-operatoria in qualsiasi momento tramite l'apertura dello scarpuncino senza dover rompere il gesso e si riducono i problemi a carico della circolazione periferica. La versatilità di questi prodotti consente di utilizzarli per le fratture del piede della caviglia per le rotture del tendine di Achille per il piede diabetico e per tante altre applicazioni. In questo caso si riduce notevolmente il tempo di guarigione da 3 a 6 settimane come dimostrato in uno studio tedesco. La persona torna prima al lavoro e ci sono meno complicanze legate all'utilizzo del gesso. Oped è un'azienda tedesca con sede nel sud della Germania vicino a Monaco che si è specializzata nella produzione e nello sviluppo di dispositivi medici dedicati al trattamento delle patologie degli arti inferiori e del polso. Tutti i tutori realizzati dalla ditta tedesca Oped sono coperti da brevetto internazionale e sono unici sul mercato. Chiamateci per avere il vostro tutore disponibile in 24 ore www.vacoped.it